Il 2017 si è appena concluso, quali sono le prospettive per il nuovo anno? Non penso che le cose saranno migliori di quelle che sono sempre state fino ad oggi, soprattutto in considerazione delle elezioni che ci saranno e della situazione internazionale che è veramente terribile. Non sono molto rosei, credo. Le prospettive per il 2018? Non ne ho. No, non ne ho, non ne ho. Va tutto bene, va bene così. Più amore, più onestà, più tutto. Un po' più di soldi. Spero che ci sia lavoro per tutti, solo questo. Cosa dovrà avere di diverso a suo giudizio dal 2017? Ma innanzitutto ci vorrebbe un po' più di giudizio da parte dei governanti che al posto di pensare, prima di tutto, ai propri interessi, a dire stupidaggini relative a quello che faranno non avendo la possibilità di farlo, perché mancano i mezzi per poterlo fare. Possibilmente che l'economia cresca un pochettino e poi che si stia meglio, che si stia in pace un po' nel mondo, via, che non ci siano guerre. Beh, che ci sia lavoro per tutti.